Congresso Provinciale di Fratelli d'Italia a Grosseto, il partito di Giorgia Meloni, si appresta ad affrontare le prossime tornate elettorali dal leader del centro-destra. Ai lavori ha presenziato la deputata Marta Schifone, oltre al deputato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Siamo pronti con una squadra sempre più forte, sempre più coesa, sempre più radicata sul territorio. Oggi celebriamo un congresso unitario, viene ovviamente confermato il presidente uscente Luca Minucci, ma viene ovviamente confermata tutta la squadra che in questi anni ha fatto davvero grandi cose per la Maremma e soprattutto per il nostro avvenire, per il nostro territorio. Noi siamo pronti, siamo pronti davvero alle sfide che ci saranno nei prossimi mesi, a partire dalle amministrative e per poi arrivare sicuramente anche alle regionali del 2025, perché noi guardiamo lontano, guardiamo al futuro appunto dei nostri concittadini. Non ci fermiamo, oggi è un giorno anche di festa, ma non ci fermiamo mai. 365 giorni all'anno Fratelli d'Italia lavora per il territorio, lavora per la Maremma. Luca Minucci riconfermato alla segreteria provinciale dei Fratelli d'Italia con tutto il suo consiglio in toto. Personalmente è molto gratificante ricevere dagli iscritti del partito, dalla classe dirigente, il mandato di poter continuare in questo lavoro che ha iniziato nel mese di marzo. Oggi Fratelli d'Italia esce da questo congresso forte, unito, con una voce univoca, con la voglia di crescere ancora, di togliersi tante soddisfazioni, di rappresentare al meglio la volontà popolare. Certo è che anche sulle nostre spalle grava anche una grande responsabilità, perché essendo il primo partito d'Italia dobbiamo dimostrare di essere una classe dirigente all'altezza di quello che si aspettano gli italiani da noi.